Lavoriamo insieme alle pubbliche amministrazioni piemontesi per rinnovare e semplificare la vita dei cittadini e delle imprese del nostro territorio. Promuoviamo la condivisione di dati e conoscenza, perché la crescita del patrimonio informativo e culturale degli enti è un nostro obiettivo. Ci impegniamo per agevolare la programmazione e gestione in accordo con le politiche nazionali. Ottimizziamo i nostri investimenti perché vogliamo costruire un Piemonte sempre più vicino a cittadini e imprese. Fascicolo sanitario del cittadino, cloud, valorizzazione dei dati, pagamenti verso la pubblica amministrazione, servizi sanitari e per il lavoro. Investiamo ogni giorno per realizzare servizi digitali a disposizione di tutti. Conosci i servizi digitali che mettiamo a disposizione di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni? Puoi accedere al tuo fascicolo sanitario, prenotare visite ed esami, pagare i ticket sanitari, ritirare referti, scegliere e revocare il medico di base. Anche pagare i servizi è semplice, ad esempio il bollo auto. Puoi prenotare online il tuo appuntamento per soli sportelli che si occupano di edilizie e tributi. Gestire pratica in tema di ambiente, energia e agricoltura presso i centri per l'impiego. Puoi muoverti con facilità sul territorio, conoscendo i percorsi e gli orari delle fermate del trasporto pubblico e utilizzare BIP, il nostro sistema di bigliettazione elettronica che permette di accedere ai diversi servizi di mobilità attivi in tutta la regione. L'osservatorio ICT Piemonte è per noi un alleato prezioso. Nato nel 2004 come strumento di governance per la programmazione strategica, oggi continua a monitorare l'attuazione delle politiche pubbliche per l'ICT. Analizza le tendenze tecnologiche e applicative. Valorizza le esperienze innovative regionali, nazionali e internazionali. Piemonte Pay facilita e diffonde in tutta la regione gli strumenti elettronici e multicanale per il pagamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni piemontese, come previsto dalla normativa nazionale. L'obiettivo è di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento di cittadini e imprese verso la pubblica amministrazione. Piemonte Pay offre a tutti gli enti piemontesi la possibilità di aderire, tramite convenzione, a un sistema articolato composto da una piattaforma tecnologica, un portale per i cittadini e uno per gli enti creditori, un call center e formazione dedicata. Yucca è la smart data platform che mettiamo a disposizione di amministrazioni e imprese per sviluppare nuove applicazioni IoT e Big Data. Fruibile in cloud è realizzata con tecnologie open source. Grazie all'ecosistema dei dati è più facile ascoltare il territorio, inventare nuovi servizi e prendere decisioni più efficaci, perché il mondo delle cose e quello delle persone si parlano ogni giorno. Sosteniamo il cloud come modello di erogazione dei servizi digitali e di razionalizzazione della spesa. Crediamo possa essere un potente strumento di trasformazione digitale e di ammodernamento della macchina amministrativa. Vogliamo quindi facilitarne l'adozione, perché consente di migliorare la sicurezza, la protezione dei dati e l'efficienza dei sistemi ICT. Proteggere i dati pubblici è sempre più cruciale. Per questo ci impegniamo per aumentare la sicurezza dei servizi digitali e prevenire gli attacchi informatici. Facciamo rete sul territorio per diffondere la cultura della cyber security e offrire formazione sulla normativa europea sulla privacy. Collaborare, incontrarsi e fare rete conviene a tutti. Grazie. 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 Grazie.